Oggi ti mostro come preparare le polpettine di broccoli. Porto a bollore l'acqua in una pentola e verso i broccoli precedentemente lavati, la patata pelata, copro con il coperchio e lo scioccio per circa 15 minuti, scolo e li verso nel frullatore insieme ad il basilico, il pomodoro secco, l'uovo, il sugo, la sottiletta, il parmigiano, le spezie e frullo fino ad ottenere un composto omogeneo che prelevo con un cucchiaio e formo le polpette che impannano alla farina di mais. Le adagio su una teglia rivestita di carta forno e rollo con un filo di docione e forno preiscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Vedrai che stupirai piacevolmente i tuoi ospiti. Ascriviti al canale se ancora non l'hai fatto, vienimi a trovare sul mio blog e se la ricetta ti è piaciuta condividila sui social. a presto con un nuovo video